via quelle mani, via le mani e a vederle su così e magari avete domatevi sin con questi via premiazione del singolo ragazzi femminile terza classificata club sportivo urania con forza federica seconda classificata canottiere a rollo con borghi e sara vince l'elba ragazzi femminile la canottiere aurora con longoni e clarissa brava longoni